Buonasera, sette minuti dopo l'una e l'ultima edizione del nostro telegiornale. Partiamo con la politica perché è stata una giornata proficua nell'ambito della trattativa per la formazione del cosiddetto governo giallorosso. Le due parti mostrano soddisfazione e in serata è arrivata anche il consenso di Beppe Grillo che in un concitato video pubblicato sul suo blog invita PD e Pentastellati a cogliere questa occasione unica e a compattare i pensieri. C'è il pressing istituzionale in giacca e cravatta di Conte che di mattina si barica al colle e poi in serata arriva l'altro pressing, quello sbracciato con i punti esclamativi di un grillo che esclama sono esausto. Dall'inizio alla fine di questa giornata il punto è sbloccare le trattative che si sono incagliate ieri sugli out-out di Di Maio, quella sua lista imprevista di 20 punti imprescindibili, l'ambizione alla vicepremiership a un ruolo di peso, la rivendicazione del decreto sicurezza dell'era Salvini e poi la tagliola del voto sulla piattaforma Rousseau che pende sulla testa del neogoverno. Per uscire dall'unpass o anche come si dice ufficialmente per il semplice fatto che era già in agenda questa mattina il premier con riserva ha incontrato Mattarella. È slittato così dalle nove e mezza a tre ore dopo l'incontro con le delegazioni di PD e 5 Stelle. Mezzogiorno e mezzo di fuoco per riunificare le parti divise, impresa in cui Conte pare momentaneamente riuscire perché dopo più di tre ore di messa a punto i due blocchi, Patuanelli e Duva per i 5S, Del Rio e Marcucci per i Dem, pronunciano parole di conforto. Le due parti lanciano in parallelo messaggi di successo, accolte gran parte delle nostre proposte da una nuova legge sull'immigrazione allo sblocco delle infrastrutture, fanno sapere i democratici. Abbiamo ottenuto stop alle trivelle e taglio dei parlamentari appena possibile, digitano i 5 Stelle. Dove Di Maio divise, Conte prova a unire. E intanto l'ex partner di Salvini in un appartamento si riunisce con lo Stato Maggiore dei 5 Stelle. C'è da mettere a punto non solo l'accordo, ma pure la sua approvazione sulla piattaforma Rousseau. Ma dopo cena qualcuno mostra di mal digerire gli out-out di Di Maio e le schizofrenie nelle trattative. Non è il PD, è Beppe Grillo stesso. Veramente non ci accorgiamo del momento storico, del momento straordinario che è questo. Invece ci perdiamo in questa roba qui che non si riesce a capire più. Basta, sono esausto. Basta posti e basta punti, dice l'Elevato. E intanto dietro l'angolo c'è sempre Salvini, che cavalca le incertezze e a Mattarella ancora chiede il voto. Parliamo della questione ai migranti dopo lo stop all'approdo per la Mare Ionio della ONG italiana mediterranea. Matteo Salvini oggi ha firmato il divieto di ingresso in acque territoriali anche per l'Alan Kurdi, che stamattina ha salvato altri 13 migranti. Mediterranea oggi ha inviato al comando delle Capitanerie di Porto una lettera di diffida in cui si preannuncia una denuncia penale per omissione d'atti d'ufficio. Ci sono tutti gli estremi, scrivono, del trattamento inumano e degradante. Fateli scendere subito, ha scritto in un tweet il segretario del PD Nicola Zingaretti. Dopo il trasbordo di donne e bambini a bordo a largo di Lampedusa restano ancora 34 migranti. Andiamo all'estero perché a Hong Kong oggi è stata una giornata veramente di caos. Nel tredicesimo fine settimana di proteste contro Pechino. La tensione è salita ai massimi livelli, si sono registrati violenti scontri, gli attivisti pro-democrazia della regione semi-autonoma si sono diretti verso i palazzi del governo centrale cinese e hanno abbattuto le barriere di protezione lanciando bombe Molotov e pietre. Gli agenti hanno risposto con cariche, rimandando indietro i dimostranti attraverso l'uso di lacrimogeni e cannoni ad acqua. E nonostante i divieti della polizia, nuove manifestazioni sono previste per domani. E ancora un'ondata di manifestazioni ha attraversato la Gran Bretagna, migliaia di persone. Oggi sono scese in piazza in oltre 30 città del Regno Unito per protestare contro quello che definiscono un colpo di Stato. Si tratta della decisione del Premier Boris Johnson di sospendere i lavori parlamentari di Westminster nei giorni cruciali per la Brexit, prevista il 31 ottobre prossimo. Una decisione giustificata dal primo ministro britannico come una mossa per impedire che i negoziati per l'uscita dall'Unione Europea si risolvano in svantaggio per Londra. E intanto milioni di americani sono nella mossa di Dorian. L'uragano di categoria 4 continua a rafforzarsi e minaccia non solo la Florida, ma anche la Georgia e il North e South Carolina. Nei quattro Stati i preparativi procedono a ritmo serrato, in attesa di conoscere ulteriori dettagli sulla traiettoria del mostro, il cui impatto con la terra potrebbe essere catastrofico. I residenti fanno scorta di cibo e acqua, chiudono centrali nucleari e aeroporti. Anche alle Bahamas sono iniziate le evacuazioni dei resort di tutte le isole. Passiamo allo sport. Per il calcio abbiamo visto davvero una gara scoppiettante, quella fra Juventus e Napoli, che alla fine si è risolta a favore dei bianconeri per 4-3 grazie ad un altro gol. Crudello è il destino di Colibali. Da mattatore allo stadio un anno e mezzo fa lo sciagurato intervento del 92esimo che mette in ginocchio il Napoli dopo una rimonta pazzesca. Una partita figlia delle imperfezioni in questo momento, con meno tatticismi ma con molti errori in più. Non c'è Sari ma la sfilata dei volti nuovi bianconeri con De Litt che ha la pesante eredità di Chiellini. Incredibile il debutto di Danino che subentra l'infortunato Resciglio e 29 secondi più tardi festeggia con il gol punendo le colpe di un avversario che abbassa la guardia sulla fuga di Douglas Costa. La Juve tiene un ritmo molto alto, ha secondato la giocata di qualità ma tu dire che dire a suono dei martelli e Iguain non vuole essere da meno. Nel raddoppio si esalta e torna a segnare 490 giorni dopo l'ultima rete in Serie A. È un monologo, la fase difensiva del Napoli lascia ancora molto perplessi e il primo tempo potrebbe finire anche peggio. Senso di frustrazione a dir poco, c'è Lozano nella nuova formula dell'attacco di un Napoli più vivace ma la Juve ha ancora la forza di colpire con Cristiano Ronaldo. 3-0 suona come un verdetto anticipato, a mezz'ora dalla fine invece l'inverosimile sta per accadere. Ma non ha se il primo incursore che metta a nudo le fragilità dei bianconeri sulle palle inattive, ma potrebbe essere una chimera. Non è così perché i campioni d'Italia si siedono, l'avversario ci crede e anche per Lozano il battesimo in Italia non potrebbe essere migliore. È una prospettiva in attesa, è una partita all'inglese, la suspense cresce ancora fino al pareggio che porta la firma di Lorenzo sul tentativo a vuoto di delitto. Per i titoli di coda potrebbe bastare, poi dal corpo di Coulibaly esce il killer del delitto all'incontrario. Saranno le due Ferrari di Charles Leclerc e Sebastian Vettel a partire domani in prima fila nel Gran Premio del Belgio di Formula 1. Alle loro spalle scatteranno le due Mercedes del campione del mondo Lewis Hamilton e di Valtteri Bottas. Purtroppo però l'exploit delle due Ferrari è stato oscurato dal tragico incidente che subito dopo nella gara di Formula 2 ha provocato la morte del 22enne pilota francese Antoine Hubert. La sua monoposto rimbalzata in pista dopo un impatto contro il guardrail è stata colpita in pieno da quella dello statunitense Juan Manuel Correa ad una velocità di 250 km all'aria. Hubert è deceduto per le gravi ferite riportate mentre Correa è ricoverata all'ospedale di Liegi e le sue condizioni sono definite gravi ma stabili. E prima di chiudere vi rendiamo conto di quello che sta succedendo negli Stati Uniti in una sparatoria davvero cruenta perché almeno 5 persone secondo le fonti di informazione statunitense sono morte e una ventina sono ferite in Texas dove due sospetti armati di fucili dopo aver rubato una Toyota e un furgone postale hanno colpito un agente e preso di mira i passanti sparando a caso a Odessa e Midland due città che distano una trentina di chilometri fra loro. La polizia di Odessa ha riferito che un sospetto in fuga dopo aver sparato sui passanti è stato ucciso e che al momento non ci sono altre persone ricercate. Appunto lo riferisce questo la CNN naturalmente nei prossimi notiziari altri particolari. È tutto, grazie per essere stati con noi. Un buon proseguimento.